Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e in questo video vediamo cosa riesco a fare con 20 euro in una delle città più turistiche d'Europa Ma prima fatemi dare un po' di contesto a questo video, c'è un casino oggi Oh là, forse qui si può parlare, tra l'altro in questa zona non ero mai stato Comunque sono qui a Barcellona perché sono venuto a trovare un mio amico che lavora qui E se avete visto i video precedenti sapete dove sono stato, cosa ho fatto Se non li avete visto vi lascio qui in alto il primo link della serie 3 città in 72 ore Se non lo sapete vi avviso già che Barcellona non è una delle mete più economiche d'Europa Quindi per la sfida di oggi dovrò cercare quantomeno di mangiare qualcosa, bere qualcosa Provare a visitare almeno un'attrazione e anche testare i mezzi pubblici Quindi andiamo a vedere cosa riusciamo a prendere con i nostri 20 euro A Ramblay, da quella parte lì Adesso andiamo nel mercato di Santa Caterina Un po' più piccolino rispetto al mercato la bucheria Quello è molto più grande, un po' più turistico Sono venuto in questa zona proprio per vedere questo mercato qui che non avevo mai visto Però è troppo piccolo, riferisco la bucheria Adesso andremo Il problema è che qui c'è anche un sacco di gente in più Bocadillo with amon, 5 euro Tutta fresca, 2 euro e 50 Una delle cose più difficili di questo video è stata trovare un'attrazione adatta al nostro budget Però forse ho trovato qualcosa, non è stato facile per niente L'unica cosa è che dobbiamo spostarci dal centro, dobbiamo allontanarci Quindi andiamo a prendere subito la metro Ho dovuto fare quasi un'ora tra metro e bus Per arrivare ad un'attrazione fattibile con il budget limitato che abbiamo oggi Però dovrei esserci riuscito Sperando sempre che il prezzo sia lo stesso che ho letto online Altrimenti siamo nei guai Tra l'altro come si intravede alle mie spalle Questa è una zona verdissima e bellissima Che sicuramente non avrei mai visitato se non fosse stata per la sfida di oggi Eccoci qui arrivati al giardino botanico Per soli 3,50 euro abbiamo probabilmente trovato l'attrazione più economica di Barcellona Che tra l'altro la domenica ha un costo di ingresso pari a zero Si tratta di un bellissimo giardino dove sono state coltivate moltissime piante provenienti da ogni continente Ma soltanto da luoghi in cui il clima è simile a quello di Barcellona Tra l'altro c'è una vista assurda qua Si vede Barcellona dall'alto Qui si che si sta bene Per visitarlo tutto ci vogliono circa 45 minuti O almeno è il tempo che consigliano È stata veramente una bellissima sorpresa Se non fosse stato per questo video non ci sarei mai venuto Quindi vi consiglio questo posto se volete trascorrere un'oretta Lontano dal caos del centro di Barcellona Se volete spendere poco per un'attrazione E se vi piace la natura Adesso finirò con calma il mio giro in questo bellissimo giardino botanico E poi mi dirigerò di nuovo in centro Perché abbiamo ancora qualche euro da spendere Suvenir 1 euro Oh che posto E con questa cerveza pequeña Alhambra Abbiamo raggiunto esattamente 19 euro e 80 centesimi Tornò a casa con soli 20 centesimi Vi avevo già accennato che Barcellona comunque non è una delle città più economiche d'Europa Ma questo non vuol dire che stando attenti non si possa spendere il giusto Passando una bella giornata Quindi spero che questo video vi sia stato utile Vi sia piaciuto in qualche modo Se è così vi chiedo di lasciare un like per sostenere il canale Di iscrivervi E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao